Ieri mattina, la storia della mia giornata tipo, della mia giornata di ieri, così come potrebbe essere la storia di molti di voi. Ieri mattina, come tutte le mattine, ho deciso di andare a lavoro e mi sono fatto la barba prima di andare a lavoro. Una volta andavo dal barbiere, facevo la fila, spendevo un sacco di soldi. Adesso ho comprato un nuovo rasoio, un rasoio elettrico con cui posso fare la barba come e quando mi pare. Poi ho deciso di andare al bar sotto casa, per incominciare la giornata con calma, per vedere qualcuno prima di andare a lavoro e riprendermi un attimo. Ma non avevo tempo, allora ho deciso di farmi un caffè a casa. Io e la mia fidanzata abbiamo appena comprato la nuova macchinetta per fare il caffè verso casa. In un attimo è tutto pronto. Quindi sono andato a prendere la macchina per andare a lavoro. Una volta andavo a lavoro in bicicletta. Pioggia, freddo, smog. Non ne ho più voglia, ho potuto comprare la macchina. Adesso vado a lavoro in macchina direttamente. Prendo la tangenziale e arrivo subito. Una volta mi capitava spesso per strada di chiedere un'informazione a un passante per capire dove fosse il posto che dovevo raggiungere. Perdevo tempo. Non ne ho più voglia, ho potuto comprare un nuovo navigatore satellitare con cui so sempre in ogni momento dove mi trovo e il posto che devo raggiungere. Così ho fatto la mia giornata di lavoro. Una volta incontravo, riuscivo a incontrare due persone in un giorno. Oggi ne faccio dodici, le sento tutte via chat, via mail, riesco a fare qualche telefonata. Ogni tanto se ne ho voglia. Così ho fatto la mia giornata di lavoro. Verso le 18 sono tornato a casa. Ho pensato di prendermi una pausa tornando a casa e di passare dal circoletto dei vecchietti che c'è davanti a casa mia, così per fare due chiacchiere un attimo e fermarmi un secondo. Però vabbè, mi sono ricordato che il circoletto si è trasferito. Quindi sono salito a casa. Per fortuna non ho dovuto fare la spesa. Odio i supermercati, tutta quella gente con la confusione. Finalmente, da tre mesi ormai mi faccio portare la spesa direttamente a casa. Io e la mia fidanzata siamo tanto contenti per questo motivo. Niente più fila alle casse. Entro a casa, la mia fidanzata mi ha detto, ehi Reyes, i nostri amici non vengono più a cena, hanno mandato una mail. Ho detto, quale problema? Chi se ne frega? Facciamoci un piatto veloce, un piatto pronto, così stiamo più tempo insieme. Abbiamo fatto da mangiare, abbiamo fatto presto, abbiamo mangiato svelti. Allora le ho detto, le ho detto, senti, che ne dici se usciamo un po', ci andiamo a vedere un film al cinema, stiamo un po' insieme, così vediamo un po' di mondo. Ma che? Ma abbiamo appena comprato un televisore gigantesco, un home theater. Allora ci siamo seduti in poltrona. Così, verso metà del film, è arrivato un messaggio sul cellulare, su Facebook. Si è messa a chattare con questa sua collega di lavoro. A me la cosa mi ha lasciato un po', come dire, mi ha un po' intristito. E poi mi sono detto, ma chi se ne frega? Ho acceso la Play e ho fatto un massacro fino alle tre di notte. Mi sono distrutto. Poi sono andato a dormire. Sono andato a dormire e mi sono coricato. Coricandomi, niente, mi sono sdraiato, mi sono detto, questa è la vita? Cioè, questo è tutto? Non c'è altro? Ho tutto quello che mi serve, non mi manca niente! Va bene. Vi ho raccontato questa breve storia perché è una storia che può essere simile alla storia di Perchi di voi, di Perchi di noi, alla mia storia. L'ho raccontata per rifletterci sopra un attimo. Sono un architetto, mi occupo di spazio pubblico, di progettazione partecipata e di accessibilità. Mi sono laureato tre anni fa in architettura e quando si è trattato di scegliere se progettare e costruire edifici oppure provare a cercare di capire quale fosse il problema, se c'è un problema nella storia del signore di prima, ho scelto ovviamente la seconda strada, mi sembrava la più interessante. Vedete, nella sua vita, nella mia vita, ho sostituito piano piano con degli oggetti tutte quelle funzioni che prima per svolgere avevo bisogno della presenza di altre persone, avevo bisogno della presenza e dell'aiuto di altre persone. Il punto cos'è? Adesso io ho una quantità di oggetti che sono effettivamente molto comodi ed efficienti, molto, anche io ho il rasoio elettrico a casa, non è che vivo sulla luna. Sono molto comodi, la mia vita è più autonoma, più veloce, ho strumenti efficienti per fare quello che mi serve. Il problema è che torno a casa la sera e è come se mi mancasse qualcosa. Non so, la sensazione probabilmente qualcuno la conosce. L'impressione è che io mi senta un po' solo. Il punto è che aggiungendo nuovi comfort, la sensazione non cambia di molto. Il fatto cos'è? Corro dalla mattina alla sera e ho l'impressione che per la mia vita abbia bisogno di un momento, forse ho bisogno di un attimo, un istante, di pausa, un momento garantito e incrollabile nella mia vita in cui io so che posso prendermi un attimo di tempo per me e per un po' di relazione, senza dover correre per forza dalla mattina alla sera in questo modo. Allora ho disegnato e studiato tanto e guarda un po', ho pensato questa cosa qua, nel senso, perché non provare a mettere una panchina sotto casa mia, una panchina per sedermi due minuti, la mia panchina per potermi sedere due minuti quando torno da lavoro alla sera o alla mattina per fermarmi un attimo e guardare la mia strada, per guardare chi c'è intorno a me, un momento e un punto della mia vita in cui io posso fermarmi un secondo, mettere il mondo in stand by per un attimo, un punto che è in comune fra me e il mio vicino, un posto che può essere prezioso per me, per lei, per lui e per tutti quelli che abitano nella mia zona, un punto che probabilmente è una panchina, un luogo che potrà essere curato da queste persone, un posto che può essere un punto di riferimento per la mia strada, un luogo di contatto fra chi abita lì e chi passa, un posto che mi può consentire probabilmente anche di conoscere una persona, casomai quando torno la sera da lavoro, trovare qualcuno con cui fare due chiacchiere. Vedete, la nostra società, a mio avviso, la nostra società e la nostra vita è fatta un po' così, come una strada di oggi, è fatta per essere attraversata di corso, noi andiamo da casa, lavoro, torniamo, non c'è tanto tempo e tanto spazio per guardarsi intorno, per vedere chi c'è intorno a noi, il problema è che la sera, quando torno a casa, io telefono a un mio amico o a mio nipote che abita dall'altra parte della città, lo faccio per sentire una voce amica, intorno a me abitano centinaia di persone come me, ma alla fine, come molti di loro, mi sento solo, c'è qualcosa che non torna. Allora ho disegnato e studiato tanto e alla fine mi è venuta un'idea, perché non provare ad avere uno spazio di questo tipo, una piazza di vicinato? Cos'è? È un'interruzione della strada in un senso trasversale, vuol dire nella mia vita voglio per un momento provare a interrompere tutto questo, questa corsa quotidiana, provare ad andare in una direzione diversa, in questa direzione, io non sto parlando con un computer, sto parlando appunto con voi. Questo punto che sia visibile, condivisibile da me e da chi mi abita intorno a me, per trovare un tempo e uno spazio che ci accomuni. Ho chiamato questo progetto luoghi di sosta pedonale, perché? Perché credo che anche gli uomini, gli umani, abbiano bisogno di un momento di sosta ogni tanto, io mi siedo perché così me lo prendo un po' anch'io. Ho pensato in un posto così potrei invitare i miei amici a chiacchierare, a cenare, potrei portarci mio figlio a giocare con i suoi vicini di casa, con gli altri bambini della strada, probabilmente potrei conoscere in questa piazzetta la persona che può diventare la babysitter di mio figlio, magari abita nell'edificio di fianco al mio. Allora mi sono detto una cosa, se questa cosa può servire a me, può migliorare la mia vita, probabilmente può farlo anche con la vita degli abitanti del resto della città, per questo sono qua a raccontarlo. Così ho deciso che questa cosa andava sperimentata. Nel 2010 ho fondato con un gruppo di persone che si erano fatte persuadere dalla mia idea l'associazione 100-300. L'associazione si occupa infatti di progettare spazi condivisi pensati per e con gli abitanti. Abbiamo sviluppato il progetto dei luoghi di sosta pedonale rendendolo in una forma temporanea e modulare sulla dimensione dello stallo di sosta delle auto. Questo perché? Per renderlo più applicabile, di facile modificazione e più esportabile, quindi anche per altre strade. Il disegno di prima era molto architettonico, questo è molto più concettuale, si riesce a portare altrove, quindi è un metodo. Abbiamo arredato questo spazio, abbiamo pensato come si potesse arredare in maniera facile e semplice da realizzare questo salotto comune di strada. Dopodiché abbiamo costruito le cose che ci sarebbero servite per realizzarlo. Abbiamo discusso parecchio con gli abitanti della strada in cui abbiamo fatto il primo prototipo, dopodiché abbiamo allestito la prima piazzetta di vicinato. Allora, questa piazzetta l'abbiamo discussa con gli abitanti della strada. La proposta cos'è? Proviamo a vedere se avere una piazzetta di vicinato può migliorare la nostra vita, la vita della nostra strada. Se questa cosa succede, cerchiamo di ottenere una piazzetta definitiva con l'aiuto degli abitanti dell'amministrazione. Quindi cosa facciamo? Facciamo una sperimentazione di questa nuova realtà, cioè la nostra strada è diventata un'altra cosa, sperimentiamo che cosa vuol dire vivere in questo modo. Rivolgendoci agli abitanti abbiamo inaugurato la piazzetta, abbiamo lavorato su questa piazzetta discutendo della sua utilità, della sua forma, della sua dimensione. La piazzetta cosa ha fatto? È entrata in strada in punta di piedi, non si è imposta. Ha detto, se il progetto vi piace, possiamo provare ad andare avanti. Se il progetto non piace, andiamo via. È andata così. Così la piazzetta è stata replicata più volte. Sono successe tante cose, si è ballato, si è mangiato, si è discusso di problemi politici, economici, sociali. Ci si è organizzati. Molti abitanti della strada si sono conosciuti e si sono riuniti in un comitato. Nelle loro vite è entrato qualcosa che gli dà un punto di riferimento. Questa cosa cos'è? Non è solo la piazzetta, è la possibilità di avere un vicinato. Sono dei punti di riferimento a livello economico, sociale, ecologico, eccetera, eccetera, che gli consentono di avere degli scogli e degli aggrappi per la loro vita, una ristrutturazione del loro sistema di vita. Non vuol dire essere costretti a cambiare, vuol dire semplicemente che se vuoi hai una possibilità per cambiare delle cose di cui hai voglia. Tutto qua. La cosa più bella è che molti abitanti che vengono in piazzetta e anche molta gente che viene da fuori dice che in piazzetta sembra di essere in vacanza. Sembra che per un momento il tempo si sia fermato. È evidente. Per il futuro, gli abitanti della prima piazzetta rivicinata chiedono che si realizzi permanentemente. L'associazione 100-300 sta cercando nuove strade per la città e eventualmente anche in altre città, ma soprattutto qua a Bologna, perché qua abbiamo cominciato, per creare nuovi luoghi di sosta padronale con gli abitanti, con l'amministrazione, per consentire, per dare uno strumento a questa città, per avere questo cambiamento, per poter costruire questo cambiamento. Questa rete di piazze è quello che io chiamo un nuovo sistema di convivialità per la città di Bologna. Prima di andare via voglio citarvi due parole di Edoardo De Filippo. Queste sono le prospettive dell'associazione. De Filippo diceva una cosa che mi ha fatto molto ridere. e diceva innanzitutto il lavoro fa male. Tanto è vero che quando un medico visita un malato cosa gli dice? Riposo assoluto. Noi invece siamo come se fossimo abituati a sentire lavoro assoluto. Questo è uno scherzo, in realtà voglio lasciarvi con un pensiero. Se per sentirci in vacanza abbiamo bisogno di andare lontano, lontano da casa nostra, forse è meglio ripensare la casa per sentirci in vacanza anche qua. Grazie.